Io chiaramente sono molto contento e molto soddisfatto di essere, di avere questa opportunità, molto soddisfatto e contento che la società mi abbia cercato, anche perché io sono cose che succedono e che si sentono, ma io dentro di me ho sempre saputo, ho sempre sentito che prima o poi avrei allenato Bologna. Non mi nascondo che ci saranno e che ci sono delle difficoltà, perché è inevitabile che quando succedono queste situazioni c'è qualcosina che non funziona, ma io sono assolutamente, se ho scelto questa opportunità, questa possibilità, l'ho fatto perché ritengo che Bologna è una piazza molto importante, molto gratificante, perché ritengo che la squadra abbia tutte le possibilità e questa è la cosa che ho detto oggi ai miei giocatori al primo discorso, abbia tutte le possibilità per togliersi le situazioni, per fare un campionato di vincoso, ci vorrà tempo perché è impossibile comunque pretendere tutti i miglioramenti e sistemare tutte le situazioni che magari qualcosina non andava immediatamente, quindi ci vorrà tempo, ma la nostra dovrà essere una crescita costante, una crescita contigna e ripeto io sono convinto che la squadra è in grado comunque di fare le soddisfazioni e di dare assolutamente le soddisfazioni a un pubblico che ha sempre dimostrato grande esigenza, grande competenza, ma allo stesso tempo ha sempre dimostrato di poter di essere un valore aggiunto ed è questo che mi aspetto dalla squadra e che mi aspetto da tutta la vita. Penso che chiaramente qualcosa non ha funzionato e che insieme alla squadra dobbiamo trovare dei miglioramenti e trovare chiaramente l'assetto più equilibrato possibile mettere in condizioni i giocatori che abbiamo di esprimersi al loro meglio, è inevitabile che i numeri in questo momento siano numeri negativi, ma altrettanto vero ripeto che noi dovremmo lavorare bene, non tanto nella quantità del lavoro ma nella qualità del lavoro perché credo che questa squadra abbia le caratteristiche giuste, abbia gli uomini giusti, abbia le qualità giuste per migliorare i numeri negativi di questo momento. stabilite le garanzie. Le garanzie che ho chiesto, che ho appunto dalla società e che chiaramente l'allenatore deve fare delle valutazioni dal punto di vista tecnico e abbiamo questi tre mesi, due mesi e mezzo di tempo per arrivare a fine di cedo perché chiaramente io farei mie valutazioni, la società mi ha dato ampia disponibilità caso mai ce ne fosse migliori di poter migliorare il nostro campo. Io credo che questa squadra sia stata costruita ed è anche un sistema di gioco che a me piace, anche se ritengo nel senso assoluto che non ci sia un sistema di gioco né vincenti né tantomeno quello perdente, che però io ho una base senz'altro dalla linea difensiva a quattro più tre centrocampisti questa squadra sicuramente proverò a dare, variando per quello che può essere lo sviluppo della fase offensiva, inserendo qualche volta un tre quartista dietro due punte o magari giocando con due dietro una punta o con tre attaccanti. Il mio percorso è sempre stato questo, insomma cercare di dare una base alla linea difensiva e al centrocampo e poi dopo in base alla caratteristica dei giocatori, in base anche alla condizione dei giocatori, in base qualche volta anche agli avversari che dovremmo incontrare, magari sviluppare diversamente la fase offensiva. Il lavoro secondo me più importante e più profondo che dovrò fare io sicuramente nella testa dei giocatori, dal punto di vista dell'atteggiamento mentale dovrò lavorare tanto, dovrò lavorare tanto perché è innegabile che i risultati negativi tolgono convinzione, tolgono autostima, tolgono consapevolezza dei propri mesi, mezzi, mentre noi per il modo di giocare che abbiamo in mente, come in mente, come se ripeto, una squadra convinta, una squadra positiva, una squadra che sappia interpretare le partite con grande propositività, generosità e che non abbia timore e puro dell'avversario. Per far questo abbiamo solamente una soluzione, se arriva al campo la domenica con assoluta convinzione, con assoluta consapevolezza dei propri mezzi, se l'allenamento quotidiano e settimanale viene affrontato con i giusti comportamenti, con i giusti atteggiamenti. Se la voglia di me, durante la settimana, tu vai al campo senza ansia, senza paura, anche se, ripeto, la classifica al momento è quella che è, ma noi dovremmo lavorare di qualità, lavorare bene, conoscerci bene insieme per andare ad affrontare ogni avversario di domenica e anche in domenica, con un'assoluta convinzione e con la voglia di provare a fare la partita. Secondo me la Miez è un giocatore di grande qualità, un ottimo giocatore, che incontrando l'anno scorso contro il Teo, ma ti è stata una grandissima impressione, sia per qualità tecnica, sia per intraprendenza durante la partita. Chiaramente, per dare un giudizio definitivo sulle sue caratteristiche, sulle sue collocazioni in campo, devo aspettare un po', perché tra l'altro è uno dei miei giocatori che purtroppo non ha dispezione da subito, ma che arriverà solamente la settimana prossima, è un giocatore sicuramente offensivo, che sa saltare l'uomo, che sa comunque attaccare la porta, che sa accentrarsi bene, quindi sicuramente avrà schierato uno dei tre ruoli offensivi. In questo momento lo vedo un po' di più, più avanti che chi vicina la settimana prossima. Palermo è passato, per me il presente è bellissimo e il futuro è bellissimo, perché sono all'alto di quello ultimo. Non vedo di cominciare, quello che ho detto ai ragazzi, loro lo sanno, per la voglia e l'entusiasmo che abbiamo avremmo preferito giocare subito domenica, però è altrettanto vero che abbiamo bisogno di conoscerci, quindi tutto sommato avere la sosta davanti, non è un peccato, però per me il presente, il futuro si chiama Bologna ed è il presente veramente, che mi auguro che sia veramente splendente, che sono assolutamente felice di essere giocatore. Io non voglio, per il mio giocatore ho solamente detto che io non voglio sapere, conoscere niente delle situazioni precedenti. Io ho le mie idee, ho il mio modo di rapportare, ho il mio modo di lavorare, voglio portare tutto quello che ho a disposizione per la squadra per far sì appunto che il nostro lavoro sia un lavoro di qualità. Ho detto un lavoro di qualità non confrontandomi chiaramente al lavoro precedente, tra l'altro l'ho visto da tutta la mia stima e sicuramente la mia solidarietà in questo momento, purtroppo che facciamo questo mestiere sappiamo quelli che sono i rischi del caso, ma io voglio solamente pensare a quello che c'è da fare da oggi in avanti, assolutamente non conoscerlo, non sapere, non sentire quello che è successo in passato. E' quello che ho chiesto oggi, il massimo, io voglio da tutti il massimo, ma da tutti da partire dal primo al trentatresimo, quanti siamo, da tutti veramente. Il confronto è andato così, a me la società ha chiesto se io ritenevo l'organico, la squadra all'altezza della situazione, in grado di fare un campionato, ottenere una salvezza tranquilla, io ho detto chiaramente di sì, perché conosco bene i cittadini che ho a disposizione e l'altra valutazione che io ho fatto insieme a società e loro hanno dato garanzia che se io dovessi fare le valutazioni nell'organico da qui a dicembre, avessimo necessità di migliorarlo e alcune delle parti fossero particolarmente scoperte, alcune caratteristiche fossero assente, la società si è stata disponibile di intervenire chiaramente per le nostre possibilità. Grazie.